Signori e signori, benvenuti al Mare Luna Show! Voglio mettere una bella pieza. Bellissima, vai! Ma che classifica ne ha un minuto? Guarda, faceva le picchiettue, mettere! Vai, vai, vai! Su le mani, su le mani, eh! Eh! Su le mani, su le mani, eh! Eh! Ma a volte non c'è! Oh, non c'è l'hanno, non c'è l'hanno! Si, non c'è l'hanno! Ma non c'è l'hanno! Oh mamma mia! Ma non c'è l'hanno! Ma non c'è l'hanno! Ma non c'è l'hanno, ma non c'è l'hanno! Mi tagliatevi, uscirevi, è l'hanno! Uuuuh! Che è il dirigente dell'Asia Napoli! Veramente! Terra, Terra, Terra! una settimana portiamo il furgone, e tu hai il sabone 1.5 e una settimana portiamo il furgone, e tu hai il sabone 1.5 e nel 25 euro, e tu metterai qui il cibo non lo sta reciclando, non lo fa di rinnovare ma non lo fa di rinnovare io già stai su tenendo lo so che tra i minuti ce la ricordi andiamo a cena, andiamo a cena a seconda secondo che andiamo a cena e a cena fino in me ciao